salve a tutti come ogni anno tenterò di suonare qualcosa in occasione della festa della mamma questa è la mia mamma purtroppo non c'è più da quattro anni e sento sempre la sua mancanza letteralmente ogni momento e sarà così per sempre fino a quando torneremo insieme dopo se c'è un dopo io non credo in nessuna religione in verità però lo spero non si può sapere vedremo comunque pronti via grazie a tutti a te piaceva tanto che suonassi il violino anche se non ero capace e non sono incapace poi te la suono col basso e di sicuro sarà suonata meglio per la seconda parte con il basso si spera che sarà suonata meglio salve a tutti dei team post raviam ciao a tutti grazie a tutti